Dopo sette anni Sebastian Jovinko torna in Serie A. La formica atomica aveva infatti lasciato il campionato italiano nel 2015, compiendo delle scelte di carriera davvero particolari. Per approdare al Toronto, la stessa squadra a cui si unirà quest'estate Lorenzo Insigne, Jovinko risolse anticipatamente il proprio contratto con la Juventus. In Canada giocherà quattro stagioni, vincendo un titolo di MLS. Nella sua stagione d'esordio fu capocannoniere, miglior giocatore esordiente nel campionato e miglior giocatore del campionato. Ed è tuttora il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia del club. Tra il 2019 e il 2021 ha invece giocato nel campionato saudita con Lal Ilhal, diventando l'unico calciatore italiano ad aver segnato in campionati di massima divisione in tre continenti diversi. E anche in Arabia Saudita, agli ordini di Erasvan Lucescu, ha avuto grande successo, vincendo due campionati nazionali, una coppa e soprattutto la Champions League Asiatica del 2019.